Ecco, grazie. Rene, dove stiamo andando? Tu stai zitto e spegni il cellulare. Sì, Rene. Tutto ok, Rene? Certo. Eccoli, sei bastardi, eccoli là. Ma chi? O tu, faccio vedere chi? Mazzini in merda! Oh, che tesoro. Mazzini in merda! Ma chi è? Fili di puttana! Perretti! Grande! Sì, grande Perretti! Dai la cima a questo strunzo. Grande! Grande Perretti! Grande Perretti! Vieni! Fatemi salire che vi devo parlare! Vai Perretti! Dammi una mano! Grande Perretti! Grande sto cazzo! Che ne è? Io ti aspetto qua, no? Vieni Alessandro, vieni, vieni! Che ci dobbiamo stare tre giorni qua dentro. Abbiamo del lavoro da fare. Vai, vai, vai! Vai, vai! Lavoro? Tre giorni? E che ne sono? Questo è per lei. È un piccolo pensiero, per la sua tenacia e per la sua leadership. Grazie. Che cos'è? È il futuro, Ferretti. Che cos'è? Che cos'è? Candice! 여rii? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è! Che cos'è? Grazie a tutti.